Lorenzo, allora come vanno queste moto elettriche? Belle, belle, molto belle. Ormai sono abituato a non sentire il rumore perché usavo anche quelle nel campionato MotoE, quindi sono abituato. Però sono divertenti, ci diverte e poi davvero senti proprio il fatto della libertà perché non avere il rumore riesci a sentire altre cose. Senti, però parliamo di questo mondiale. Cosa ti aspetti? Vincerlo? L'obiettivo è sempre quello, cercare di vincerlo. È un campionato strano perché le moto elettriche sono diverse rispetto alle moto con il motore a scoppio. Cosa vi è? Differenze quali principali? Il motore. Che sembra così, sembra la battuta, però effettivamente vuol dire tanto non avere il motore a scoppio e fa tanto la differenza ma guidato in una maniera molto molto diversa. Molta accelerazione però. Molta accelerazione però non è comparabile alla potenza che ero abituato prima io col superbike. Certo, freno motore non c'è. Freno motore ce n'è poco però è sempre elettrico quindi funziona in maniera diversa rispetto a quello meccanico. Diciamo che sono da interpretare queste moto qua e una volta che hai capito come vanno guidate ti diverti molto.